Buonasera, qui è Teleschianto Castelvecchio, abbiamo uno dei venditori, in realtà io vedo che lei sulla sua bancarella ha tante cose, mi dica cosa vende di precisione? Io le vende un po' di punta, fiori, chitarra, tricballacche, roba vecchia, scusi come si chiamano quelle cose là? Si chiamano i tricballacche, ah i tricballacche, è un nome che non ho mai sentito, cos'è un nome in dialetto oppure un nome? Un nome che dicono qui a Castelvecchio, ah ho capito, posso chiederle facciatamente come vanno gli affari? Malissimo, addirittura, addirittura malissimo, il tempo è stato un po'... Eh va bene, va bene, però diciamo il tempo ha mantenuto, ma io penso che fra poco arriverà tanta altra gente e le auguro di vendere tante cose, va bene? Io mi auguro che vendesse tutta la bancarella E dopo se vende tutto non ci rimane più niente, va bene? No, ho il tempo da fare gli altri Comunque gli faccio gli auguri e gli do la linea Teleschianto Castelvecchio Grazie